Un anno di arresti in tutta Italia, un anno di ripercussioni repressive in tutta Italia, invece hanno prodotto la piazza di Sabba, perché è una piazza in cui c'erano 10.000 persone nonostante un divieto, nonostante le centraia di migliaia che sono state fermate sugli autostradi, ai caselli, dentro la città di Roma con i vari cerchi concentrici e tutto quell'apparato repressivo che è stato messo in campo per spaventare, per evitare che la gente scendesse in piazza. Noi a questo ricatto sappiamo bene che non caschiamo, sappiamo bene che la repressione, se pensano che effettivamente avrà il ruolo di spegnerci, si sbaglia, il ruolo che avrà è quello di accenderci. Siamo tutte antisoniste! Siamo tutte antisoniste! Siamo tutte antisoniste! Che questa cosa avvenga l'8 ottobre, quindi proprio a distanza di un anno dall'inizio del genocidio in Palestina, questo sia veramente uno schiaffo a tutte quelle migliaia di persone che in questo anno si sono mobilitate nelle proprie città e chiedendo lo stop, il cessato il fuoco, lo stop del genocidio. Buonanotte! Buonanotte! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! . Intipata! Intipata! Intipata!